ciao a tutti e benvenuti su video diversi oggi vi parliamo del java beach party ma sarà l'ultimo video in cui lo faremo perché giustamente passeremo ad altri argomenti se non sapete di cosa stiamo parlando se siete nuovi eccetera vi invitiamo a recuperare il video che abbiamo già fatto e inoltre suggeriamo anche il video di un nostro collaboratore che ha partecipato al nostro video ma ne ha fatto un altro suo per ampliare l'argomento vero giacomo di entropy for life ve li suggeriamo entrambi ora oggi a seguito di molti suggerimenti vostri siamo tornati a torre flavia che è la zona in come dire che coinvolta nel discorso del java beach party e anche a marina di cervetteri che è il posto dove effettivamente si è fatto il concerto siamo tornati per specificare due cose la prima è che ricordare come molti di voi hanno fatto nei commenti che è vero si è impedito il concerto qui nel 2019 ma il concerto in realtà è stato spostato in un'area più nord molto vicina all'area protetta la seconda cosa poi è che molti hanno detto perché non fate un video su un posto fisicamente sul prima e il dopo il concerto perché altrimenti parlare di ambiente insomma giustamente ci sono stati anche commenti di persone magari non informate che hanno detto ma come faccio io a rendermi conto se è vero quello che dite il prima e il dopo eccetera quindi abbiamo deciso di aggiungere oltre alle foto già molto come dire eloquenti che avevamo pubblicato nello scorso video di roccella ionica di venire fisicamente a vedere il terreno di lo spazio scelto per il java beach party a marina di cervetteri noi le riprese a marina di cervetteri le avevamo già fatte e non le avevamo messe nel video perché erano un extra non volevamo allungare troppo il video le avevamo già fatte quando eravamo venuti qua a fine giugno e adesso potete compararle con le riprese cose che invece abbiamo fatto oggi che è inizio agosto grazie a tutti e nello specifico il concerto marina di cervetteri è stato il 23 e 24 luglio e come potete vedere dalle immagini quello che emerge è che quello che era un contesto di duna embrionale quindi c'erano tutte le specie pioniere che stavano iniziando a formare dopo tre anni dal concerto del 2019 una nuova duna sono state estirpate non ci sono più e poi ovviamente si può anche notare come del resto tutti un po lo immaginavano e la quantità di rifiuti soprattutto quelli piccoli come i mozziconi di sigarette o piccoli pezzi di plastica in realtà non siano stati tolti dal momento che pare che ci siano state per due sere di concerto circa 25 mila persone a serata come ci si aspettava appunto l'impatto dei rifiuti non è insignificante e non è neanche facile da rimuovere. Con l'occasione un altro motivo per tornare qui e farci un altro video su questo argomento è quello che abbiamo voluto parlare con un attivista diciamo rappresentante di tutto quello che è stato ed è il movimento per la protezione di quest'area in particolare di Torre Flavia il monumento naturale di Torre Flavia ma in generale ha anche sperimentato la collaborazione con le altre località in cui ci sono state le date dei concerti del Jova Beach Party quindi volevamo appunto sentire la voce di qualcuno che è coinvolto dal 2019 ad adesso che ci faccia un po' il quadro di quello che è stata la mobilitazione che ha portato in questo caso appunto a Torre Flavia allo spostamento della data del luogo del concerto ma per esempio a Basto o anche a Lido degli Estensi tutti i movimenti che hanno portato nel 2019 a mobilitarsi anche in altre località d'Italia. Questa persona ci aiuterà a fare un po' il quadro a raccontarci brevemente per punti come è nato tutta questa mobilitazione di protezione delle spiagge scelte per il Jova Beach Party e anche ci racconterà nello specifico al caso di Marina di Cerveteri come sono state quelle due serate il 23 e 24 luglio dal punto di vista di chi era qui nell'area protetta che vedeva il palco perché appunto come dicevamo è appena sopra l'area protetta e cercava di gestire i possibili impatti sonori piuttosto che acustici piuttosto che delle persone fisiche venute per il concerto e quindi ci farà un po' capire quanto anche se non sono fisicamente nel luogo che si voleva come dire proteggere se sono vicine comunque c'è sempre ci possono essere sempre delle degli scontri negativi per le aree protette dunali e in questo caso anche paludose. Buongiorno mi chiamo Silvia Filippi faccio parte di un gruppo di cittadini, siamo cittadini attivisti per l'ambiente e ci siamo occupati quest'anno del problema del Jova Beach qui sulle spiagge di Marina di Cerveteri. In realtà già ci occupavamo di questi concerti nel 2019 quando si doveva fare a Torre Flavia da lì si riuscì a bloccare questa diciamo che per noi è abbastanza uno scempio ambientale e quindi ovviamente da quell'anno poi abbiamo cercato di collegarci anche con altre realtà che stavano vivendo questa diciamo devastazione come noi la interpretiamo e quindi siamo entrati in contatto poi anche con i gruppi di Vasto, di Fermo, di Roccella, Lito degli Estensi che già nel 2019 si sono contrapposti a questa moda dei concerti spiaggia portata avanti da giovanotti. Allora quest'anno purtroppo dopo due anni di pandemia è tornato giovanotti sulle spiagge allora questo è un qualcosa che purtroppo ancora una volta ci ha colpito perché perché anzi pensavamo che forse questa pandemia ci avesse un pochettino insegnato che dovevamo avere un pochino anche più cura del nostro ambiente e della nostra salute. Quanto pare non sembra perché perché comunque fare questi concerti sulle spiagge e soprattutto vicino a delle aree protette, se vedete lì comunque c'è una palute, molti dicono, gli organizzatori ci hanno detto che ah no ma 700 metri un chilometro, no la palute è molto vicina tant'è che anche appunto durante queste date di concerto ci sono stati peraltro degli accessi alla valute nel deflusso e questo ha creato dei problemi e quindi appunto ci conferma nuovamente che questi concerti sono impattanti, sono impattanti perché? Perché quando arriva questo Giova Beach sulle spiagge ci sono lavori, c'è movimentazione terra, c'è asportazione di suolo, c'è asportazione di piante protette. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto una perizia con un botanico prima dell'installazione delle strutture e ci sono state trovate della vegetazione dunale, anche se in formazione, quindi a riprova che quello che è stato fatto nel 2019 era stata una compromissione dell'habitat ed è la stessa cosa appunto che portiamo avanti con gli altri gruppi che ho citato prima, cioè noi tutti siamo impegnati nel sottolineare come questi concerti abbiano un impatto ambientale devastante per le specie, per il mare e per l'ambiente in sé per sé perché è un bene comune, ma hanno anche dei risvolti, credo che sia giusto dirlo, culturali, sociali ed economici preoccupanti perché comunque non si può dire che si può ricostruire la spiaggia e non si può soprattutto per gli interessi di un privato dare appunto inderoga a delle norme basi anche di diritto di cittadini e quindi dare la disposizione a un bene comune che viene in qualche modo privatizzato perché questo è un fatto grave, così come dei disabili non si potrebbero andare in spiaggia, così come appunto c'è stato il rischio che potesse succedere qualcosa in palute perché appunto nel deflusso sia nella prima serata con centinaio di persone, anche qualcosa in più e nella seconda persone sono uscite dal concetto e si sono regate in un posto che appunto è la paluditore di Flavia che è comunque un posto protetto, con fauna e flora protetta e andarci di notte è pericoloso perché non è un discorso che si rompe una palizzata ma puoi trovarti con dei pericoli e puoi trovarti anche a manomettere l'ambiente, anche solo già con il calpestio, pensiamo alle dune, quindi questi concerti per noi nella spiaggia non si devono fare. Come avete visto c'è stato un po' un problema gestionale, per fortuna non c'è stato niente di troppo problematico ma considerate che per esempio il fatto che le persone siano conflute dentro l'area protetta poteva essere molto pericoloso e molto impattante per un animale come il fratino che si dice tanto, è stato detto diverse volte che i concerti facevano in modo che non avvenissero nei periodi di riproduzione di covata eccetera perché ci sono precisi cicli biologici ed ecologici, in realtà chiunque si occupa di ecologia sa che non è esattamente così e che ci possono essere dei range temporali in cui queste cose avvengono. Infatti sabato 30 luglio si sono schiuse due uova di fratino che erano state deposte proprio i giorni prima a ridosso delle date del concerto e che il papà fratino perché insomma come abbiamo spiegato nel video scorso sono i maschi a covare le uova stava covando e i puli stavano per nascere quindi il discorso che dicevamo del calpestio e tutta una serie di cose immaginate al buio con dei diciamo persone post concerto che stanno cercando la via d'uscita quanto può essere impattante in una situazione in cui appunto c'è un fratino che sta covando le sue uova e magari se si vede arrivare le persone si invola, va via e le uova vengono calpestate. In questo caso ripeto non è successo niente, i due pulli sono nati e insomma i volontari li stanno monitorando come fanno usualmente e però capite bene che ci sono tutti anche questi impatti secondari che vanno considerati e che volevamo mostrare in questo video. Ovviamente noi siamo venuti qua a Marina di Cerveteri perché è il posto più vicino a noi e quello che abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio, ci servono tante altre date, tante altre località che meritano visibilità, tra le principali abbiamo Rocella Ionica ma anche il caso eclatante di Fermo in cui si sta parlando per fortuna anche in alcuni giornali un po' diciamo più conosciuti per tutta una serie di discorsi di recupero ambientale che poi è stato buttato via riproponendo il concerto in una precisa località. Marina di Cerveteri è un esempio ma tenete sempre presente che ce ne sono tanti altri altrettanto importanti. Con questa appunto ultima parentesi, ultimo approfondimento vorremmo come dire non chiudere il discorso Giovanni di Cerveteri perché non è importante ma perché noi personalmente abbiamo dato il quadro più completo che c'era possibile dare, ovviamente non finisce qui e speriamo anzi di aver informato più persone possibili e rimanere, come dire, avere gli strumenti per in futuro riuscire a saper decidere o fare un certo tipo di pressione nei confronti di future proposte del genere in ambienti, in ecosistemi che invece andrebbero protetti. Con questo concludo, da parte mia e di Libero, da noi biodiversi vi ringraziamo, recuperate i video che vi ho citato prima, se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale perché abbiamo avuto diverse visualizzazioni, molti di più degli iscritti, quindi se voi vi iscrivete ci date un sacco una mano, se potete condividete, se siete interessati condividete questa informazione e noi ci vediamo al prossimo video. Non so a vedere quello che gira su Inter, però poi certe cose me le riportano, c'è questa cosa che sta girando che è un po' che vorrei dire la mia, insomma. Allora, Giova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema, non mette in pericolo nessun ecosistema, non devastiamo niente, anzi le spiagge noi non solo le ripuliamo, ma le portiamo ad un livello migliore di come le abbiamo trovate, questo ce lo riconoscono tutte le amministrazioni locali. Giova Beach Party non è un progetto greenwash, questa parola mi fa cagare e così come mi fa schifo chi la pronuncia, perché è una parola finta, è una parola che si usa, è un hashtag, no? E gli hashtag sapete dove dovete metterli. Giova Beach Party è un lavoro fatto bene, fatto bene. Se pensate che non sia fatto bene venite a verificare, questo è, non fate, non sparate fuffa, venite a verificare, venite qua, ci sono tutti gli strumenti legali e amministrativi e anche per poter verificare quello che succede, come succede, come vengono svolte le cose. Il mio pubblico è fantastico, è gente con una coscienza alta rispetto all'ambiente, se viene qui è perché si vuol divertire, sa come farlo e questo è, questo volevo dire. Continuate, chi volete voi, nazi, eco nazisti, che non siete altro, continuate ad attrarre a voi l'attenzione utilizzando la nostra forza, sono fatti vostri. Io vi dico che questo è un progetto fatto molto bene, che tiene conto dell'ambiente, non è un progetto greenwash, è un progetto che parla di obiettivi di sostenibilità e ne realizza quelli che è in grado di realizzare oggi con gli strumenti che ci vengono messi a disposizione, dalle leggi e anche dal buonsenso e dalla volontà. Siamo tantissimi a lavorare, sono quasi mille persone, qui c'è Alessio e adesso facciamo il punto di oggi.